Ed, se volete introdurre il ministro voi, oppure non... Bene, allora introduco il ministro. Grazie per l'introduzione. Sono un'introduzione di pace. Devo dire che non sempre nelle tre battute che uno riesce a fare a un telegiornale o in un'occasione pubblica si può arrendere l'articolazione di un ragionamento. Io non credo che nessuno voglia cancellare la giustizia amministrativa. Sicuramente ci sono problemi che riguardano il funzionamento della giustizia amministrativa, come ci sono anche problemi che riguardano le altre magistrature. C'è un tema storico che riguarda la terzietà della giustizia amministrativa. Ci sono una serie di elementi sui quali una riflessione credo che sia assolutamente legittima, senza che si ergano tabù da nessuna parte. Dopodiché è altrettanto vero che probabilmente si tratta di passare da un'evocazione, da un'indicazione all'articolazione di una proposta sulla quale sicuramente anche una discussione come questa può dare dei contributi molto importanti. E lasciatemi dire senza retorica che per me è un grande onore concludere anche i lavori di questo convegno. Infatti in questa città, anche attraverso la sua università, gli studenti, i giovani avvocati, la scuola di magistratura, fornisce un contributo di studio, di riflessione, di analisi critica che consente di rendere sempre più efficace e giusta la risposta dello Stato all'aggressione mafiosa in tutto il Paese. E lo si fa io credo con lo spirito giusto, cioè uno spirito critico che è reso dal titolo stesso di questa occasione. Io ho compreso che lo sforzo che qui si è sviluppato nelle sue articolate sessioni indica l'esigenza di una serietà e di un approccio che eviti gli slogan per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Le mafie vecchie, le nuove organizzazioni criminali, le nuove mafie che contendono violentemente il controllo allo Stato in alcune aree del Paese con forme sempre più temibili di economie criminali che si intrecciano con l'economia ufficiale. Corruzione, collusioni di colletti bianchi con i boss all'ombra dell'ecomafia, inquinamento mafioso delle opere pubbliche, comitati d'affari politico mafiosi che costituiscono un elemento di freno, parliamo sempre di competitività del Paese, allo sviluppo di aree importanti del Paese. Ma se è vero che la corruzione mafiosa ed anche la violenza rimangono purtroppo al primo punto dell'agenda dei problemi del nostro Paese, è altrettanto vero che a distanza di più di 30 anni dalla legge pionieristica, la Rognoni-La Torre, dobbiamo prendere atto del fatto che è stata fatta molta strada. Lo dice il fatto stesso che in Unione Europea, nella quale siamo sempre chiamati spesso ad inseguire, oggi nell'emanazione di direttive che in alcuni casi, poi lo dirò, riteniamo arretrate, si lavora partendo dalla produzione normativa del nostro Paese. Oggi il nostro ordinamento dispone di un complesso di dispositivi normativi ad hoc contro la mafia che spaziano dal diritto e processo penale alle misure di prevenzione di cui si è discusso in quest'ultimo passaggio, dallo scioglimento dei consigli comunali alle interdettive prefettizie antimafia, al cosiddetto carcere duro per i mafiosi e al sostegno per coloro che denunciano il pizzo, tanto per fare alcuni degli esempi più significativi. Abbiamo insomma un vero e proprio arsenale normativo che ha consentito alla nostra magistratura e alle nostre forze dell'ordine di cogliere molti successi nella lotta alle mafie, di celebrare in ogni angolo del Paese processi contro organizzazioni criminali e i loro complici, di arrestare numerosissimi latitanti un tempo introvabili e di sottrare loro ingentissimi patrimoni illecitamente accumulati. Insomma, un complesso di norme e di strumenti di intervento che da un punto di vista giuridico-costituzionale risulta necessariamente calibrato sulle ragioni della sicurezza, talora con inevitabili compressioni delle istanze di tipo individual-garantistico. Ma seppur talvolta è accaduto, questo io credo sia un prezzo che lo Stato di diritto democratico è chiamato necessariamente a pagare. Tenuto conto che il radicamento delle mafie nei mondi vitali della società italiana è ancora tale da richiedere una risposta adeguata e permanente che ponga a riparo le basi stesse della convivenza civile e del mercato economico dalle violenze, dalle pressioni e dalle infiltrazioni criminali. Ebbene, come Ministro della Giustizia vorrei rivendicare gli indubbi meriti del nostro Paese, non i miei o dei miei predecessori, nell'aver saputo costruire. costruire, spesso purtroppo sulla spinta di fatti drammatici, sull'esempio di eroici martiri, che sono caduti sotto il piombo mafioso, si sono fatti dei passi avanti. E seppure con molte contraddizioni, con molti rallentamenti, nel corso del tempo abbiamo costruito delle solide barriere preventive e repressive contro l'espansionismo mafioso, senza tradire i valori della legalità democratica che sono sanciti nella nostra Costituzione. Ecco, di questo patrimonio, che non credo sia fatto soltanto di fredde norme giuridiche, ma soprattutto della passione e della professionalità di migliaia di operatori che ogni giorno compiono il loro dovere, e prima ancora di molti studiosi che hanno riflettuto sui fenomeni e sulle soluzioni che si potevano offrire, io credo che si debba essere orgogliosi. Io credo che il lavoro che è stato fatto oggi sia un lavoro importante, e lo vorrei dire senza infingimenti, anche molto utile, perché siamo finalmente in una fase politica nella quale si possono fare dei passi avanti anche senza l'esigenza di avere ulteriori tragedie, anzi, dei passi avanti si stanno facendo sulla base di una consapevolezza che è cresciuta, un dato politico e culturale non scontato. In questo senso, guardate, è molto importante che la riflessione che stiamo facendo parta da questa consapevolezza, un patrimonio di norme importanti di cui essere orgoglioso, delle falle sulle quali intervenire. Ora, su questo io non vorrei essere frainteso, il fatto che ci sia questo patrimonio che sia costituito nel corso del tempo non rende meno grave che il fatto che per molto tempo queste falle siano rimaste aperte. Ma il lavoro critico che ci è offerto anche da una riflessione come questa ci consente, ci dà gli strumenti per poter intervenire. Ci dà gli strumenti per poter intervenire a patto che si analizzi e si decifri una contraddizione. Perché a fronte di una strumentazione così imponente e forte il fenomeno resta comunque grave. Io credo che ci siano due elementi. Da un lato quel patrimonio di cui parlavo ci richiama a un'indicazione di Giovanni Falcone quella sulla storicità del fenomeno mafioso. Sulla possibilità che non necessariamente diciamo questo fenomeno sia un fenomeno connaturato a una realtà e possa essere superato. Dall'altro però ci richiama un altro aspetto che noi stiamo verificando con mano proprio in questa fase storica. Un altro richiamo che c'è nello stesso libro spesso citato dall'intervista di Marcel Padovani dice attenzione perché si entrerà tra poco in una fase nella quale il fenomeno di internazionalizzazione del fenomeno mafioso offriranno diciamo una potenza se si supereranno alcuni limiti quelli della lingua quella delle difficoltà di comunicazione e nel corso di questi anni per molte ragioni questi limiti sono stati superati nell'epoca della rete nell'epoca della globalizzazione questo pone oggettivamente un'esigenza di innovazione ulteriore degli strumenti questo però non significa dire che fino ad oggi non è stato fatto niente o che non sono stati colti dei successi significativi l'altro aspetto che penso sia la base diciamo di questo scarto lo ripeto un patrimonio importante una strumentazione fortissima io credo sia dovuto a un elemento come dire di riduzione del tema della lotta alla mafia alla dimensione esclusivamente penale e repressiva la rimozione della dimensione politica e sociale della lotta alla mafia scarica un eccesso di aspettative sulla dimensione penale è quasi una forma di de-responsabilizzazione di chi non sa più in qualche modo organizzare la lotta nella società alla mafia parlo dei grandi corpi intermedi che per molte ragioni si trova in una situazione di passaggio molto difficile anche qui non voglio fare criminalizzazione dobbiamo prendere atto della fase storica che stiamo attraversando e assegnano all'elemento repressivo all'elemento penale una valenza salvifica ecco questo atteggiamento a che cosa porta lo dico perché forse lo rischiamo di misurarlo con mano proprio in questa fase porta un'idea secondo la quale da un contributo importante come questo che io credo potrà dare dei risultati importanti perché lo ripeto se siamo pragmatici se siamo coerenti se siamo determinati quelle falle di cui si sta parlando da troppo tempo possono essere colmate a patto che la politica non si riduca ad interpretare questo contributo soltanto leggendo i massimi e i minimi editali previsti dalla configurazione di nuovi reati a patto che si riesca a capire esattamente quali sono gli strumenti più adeguati e più funzionali per costruire una coerente strumentazione di repressione e di contrasto alle organizzazioni criminali io credo insomma che ci sia bisogno di tenere insieme queste due dimensioni e non esaurire tutto in quello che voi avete affrontato il fenomeno della lotta alla mafia che come è stato ampiamente dimostrato non riguarda più soltanto alcune aree geografiche del paese ma riguarda ahimè tutto il paese io credo che ci sia oggi un'esigenza avvertita da più parti e che ci sia la possibilità di fare un salto di qualità di fare tesoro dell'esperienza che è stata accumulata e di ragionare su cosa ancora manca e va perfezionato nel nostro ordinamento soprattutto cercando di decifrare i mutamenti in corso nel mondo criminale e riuscire così a tenere la legislazione al passo con i tempi con un approccio che credo debba essere quello che raccomandava in una intervista al manifesto di pochi giorni fa che ho letto con molta attenzione in un articolo di Giuseppe Di Lello che credo qui non abbia bisogno di presentazione che invita a procedere senza furori secondo una logica razionale con la quale implementare e costruire la normativa e l'armamentario per il contrasto alle organizzazioni criminali insomma sostituire a fiammate estemporane una costante e duratura passione civile e politica e vorrei a mio avviso indicare quali sono i margini e gli ambiti di intervento che dobbiamo realizzare e che possiamo realizzare io mi avvalgo io voglio evitare di fare altri gruppi di lavoro e di studio nel senso che nel corso di questi anni abbiamo un patrimonio enorme di ricerca ora si tratta di selezionare le ricette che ci sono state offerte e di farle diventare legge io posso avvalermi di un'importantissima riflessione che è stata fatta nei mesi scorsi da due gruppi di lavoro uno che si è sviluppato presso la presidenza del consiglio l'altro è preseduto dal consigliere Garofoli e l'altro che invece è stato istituito presso il ministero della giustizia diretto dalla sapiente opera del professor Fian Dac da lì si può attingere per affrontare alcune delle questioni più importanti che ci stanno di fronte sul fronte del sistema penale lo dico a rischio di una certa impopolarità perché mediatica soprattutto ma come dicevo prima io credo che si siano fatti molti passi avanti si sono fatti molti passi avanti si è prodotta una legislazione penale volta a chiudere ogni varco o comunque molti varchi e a ridurre progressivamente le zone di impunità per i mafiosi e per i collusi e laddove il legislatore ha tardato anche di questo siamo ne consapevoli e siamo anche in qualche modo orgogliosi si è intervenuti in via giurisprudenziale ora io vengo da vengo da un incontro con padre fasulo che è stato un incontro per me molto bello nel quale ripercorrendo e raccontando la storia dell'antimafia in questa città ricordava come principi della chiesa autorità giudiziaria negassero in radice l'esistenza stessa del fenomeno oggi noi credo viviamo in un paese nel quale anche chi in qualche modo mette dei sassolini negli ingranaggi non ha dalla sua la possibilità di utilizzare questo tipo di argomentazione e questo credo ci consenta di intervenire l'ho detto in modo concreto penso che sia importante il fatto che la Camera abbia varato ieri l'introduzione del reatto del reatto la riforma del reatto per lo scambio elettorale politico mafioso e penso che sia stato importante anche che attorno a questo passaggio si sia sviluppato una discussione in qualche modo inedita che non era appunto soltanto concentrata sul tema massimi e minimi e dittali ma era legata alla funzionalità all'efficacia alla complementarietà con altre figure di reatto che sono già previste dal nostro ordinamento e a alcune figure elaborate in via giurisprudenziale penso che questo elemento questa discussione sia una discussione che va ripetuta per gli altri passaggi che abbiamo di fronte e penso che il risultato non comprometterà non dovrà compromettere in alcun modo l'entrata in vigore della norma prima della prossima campagna elettorale il governo il governo si adopererà in ogni modo affinché questo risultato sia conseguito e lo dico perché non mi aspetto che con l'introduzione del reato noi recideremo tutti i rapporti tra politica e mafia ma penso che sia un segnale politico molto importante sia un segnale politico anche come dire di un paese che vuol presentarsi in Europa avendo tutte le carte a posto e avendo tutta la strumentazione necessaria soprattutto nel momento in cui si elegge il consesso più importante dal punto di vista politico a livello europeo è in grado di dare le garanzie che appunto il paese dispone di strumenti necessari per recidere quei legami che si manifestano tra politica e criminalità io penso che questo spirito debba affrontare appunto altri capitoli che abbiamo di fronte ho letto con attenzione la riflessione che nel gruppo di lavoro del professor Fiandaca si è sviluppata sul tema del reato di associazione di tipo mafioso e di come la commissione segnali a proposito dell'evoluzione del fenomeno stesso della sua internazionalizzazione come la figura incriminatrice come la fattispecie incriminatrice potrebbe rivelarsi oggi non del tutto adeguata per colpire le forme più moderne di criminalità associata che sono però pur sempre di tipo mafioso si fa riferimento alle cosiddette mafie straniere che ormai da tempo si sono insediate in moltissime aree del nostro territorio così come il 416 bis potrebbe presentare qualche smagliatura rispetto all'afferrabilità delle forme di espansione delle mafie storiche in aree non tradizionali che ormai sono tante quante quelle tradizionali forse di più la Lombardia la Liguria l'Emilia il Piemonte condivido per questo e credo debba essere oggetto di riflessione la conclusione a cui perviene la Commissione cerchiamo di capire esattamente qual è l'impatto di questi problemi sulla prassi giurisprudenziale e quando avremo sufficienti elementi mettiamo mano eventualmente a un aggiornamento del reato che consenta di inquadrare appunto il fenomeno alla luce della sua evoluzione storica magari valorizzando non solo il metodo mafioso fondato sull'intimidazione ambientale quale fulcro della tipicità penale ma anche il metodo corruttivo collusivo impiegato per accaparrarsi i profitti illeciti che è diventato il metodo più significativo proprio delle aree di nuovo insediamento una norma penale che è stata sollecitata da più parti e che da troppo tempo invece attende di essere partorita è invece quella che riguarda l'autoriciclaggio io su questo posso dire che siamo a buon punto e anche che le conclusioni delle due commissioni si assomigliano molto e quindi agevola anche al ministro una decifrazione un'interpretazione del lavoro e da questo punto di vista io credo che si debba procedere in modo laico ma anche in questo senso dandosi dei tempi certi per la introduzione di questa fattispecie in questo senso entrambi le commissioni ci offrono tutti gli elementi del problema le criticità delle diverse ipotesi quali tipi di effetti possono produrre sul fronte giurisprudenziale e sul fenomeno economici insomma abbiamo tutti gli elementi per poter intervenire anzi vorrei dire di più abbiamo un testo sul quale ci stiamo muovendo che consentirà di portare al più presto al consiglio dei ministri una proposta l'altro fronte sul quale io credo sia importante intervenire anche questo su questo hanno riflettuto molto le commissioni riguarda il tema della prevenzione giurisdizionale ossia della lotta giudiziaria contro i patrimoni mafioli noi intendiamo recepire le sollecitazioni che sono provenienti dalle commissioni e che sono in linea tra l'altro con i più autorevoli studiosi esperti della materia soprattutto quanto alla necessità di dar vita ad un unico tribunale distrittuale per le misure patrimoniali si tratta infatti di valorizzare un'esperienza che si è accumulata in questi anni ed evitare che procedimenti complessi come quelli che hanno per oggetto la verifica della provenienza illecita di beni e aziende finiscono in sperduti tribunali di provincia che nonostante tutta la buona volontà hanno difficoltà ad occuparsi di questa materia avendo però l'attenzione che in alcune realtà che non sono le sedi ipotetiche centrali si sono accumulate delle importanti conoscenze da questo punto di vista si tratta di ipotizzare una geografia che tenga conto di queste eccezioni ad una regola generale intendiamo accogliere anche la proposta che emerge dalla commissione che riguarda un nuovo approccio sulla questione delle aziende infiltrate su questo si è discusso anche negli interventi che mi hanno preceduto insomma come si interviene in quell'area grigia che non consente ancora il sequestro ma che segnala la presenza di elementi di infiltrazione come si può anche offrire all'imprenditore che intende soprattutto in un'economia che è sempre più complessa dove l'apporto di capitali è di sempre più difficile controllo come è possibile offrire anche all'imprenditore una via d'uscita all'imprenditore non mafioso rispetto a processi che sono in campo quindi non si tratta di ridurre gli strumenti e di sostituirli di un altro ma di offrire altri strumenti per coprire un'area grigia che attualmente non è ancora diventata quella dell'infiltrazione del controllo vero e proprio ma che può diventarlo se non c'è un intervento di carattere preventivo e l'ipotesi del controllo giudiziario che è stata elaborata è un'ipotesi sulla quale credo si debba riflettere molto seriamente che può offrire appunto una risposta a questo tipo di situazione che ho richiamato non si tratta quindi di arretrare di un millimetro rispetto all'intensità e alla quantità dei controlli antimafia ma invece di consentire un intervento di carattere ancor più preventivo e contemporaneamente di offrire a quei pezzi di economia che intendono in qualche modo frenare il fenomeno degli strumenti noi intendiamo affrontare il semestre europeo che ci aspetta consapevoli del patrimonio di cui siamo portatori vorrei aggiungere purtroppo perché il fatto che questo patrimonio si sia sviluppato è anche conseguenza della gravità del fenomeno nel nostro paese ma come tutti sapete questi sono mesi importanti per quanto riguarda la nuova direttiva sulla confisca e il congelamento dei patrimoni illeciti se ne conosce da tempo il testo che possiamo considerare definitivo e a riguardo dobbiamo prendere atto che molte soluzioni prendono spunto come dicevo dal sistema italiano ma va anche registrato uno scarto che secondo me è peggiorativo del testo approvato dal Parlamento europeo e quello che ci si appresta a varare definitivamente al Consiglio qui ha pesato molto la diffidenza del mondo economico di altri paesi rispetto a misure di prevenzione a interventi che sono previsti nel nostro ordinamento è una diffidenza che a mio avviso però sottovaluta la potenziale espansione delle organizzazioni mafiose anche in altri paesi europei e in questo senso io credo che noi dobbiamo richiamare l'impianto che era contenuto nel testo andato in Parlamento e per far questo dobbiamo compiere un ulteriore sforzo e completare il disegno che è stato realizzato dal codice antimafia nel 2011 munendo il procedimento di prevenzione finalizzata alla confisca di quei presidi di garanzia che occorrono per fugare ogni dubbio di conformità alle nostre procedure e ai principi del giusto processo qui non si tratta di inventare niente si tratta sostanzialmente di codificare una prassi giurisprudenziale un'attività concreta processuale che si è sviluppata nel corso di questi anni il terzo tema quello della prevenzione amministrativa credo sia un altro tema che dobbiamo affrontare con rapidità qui io esulo un po' dalle mie competenze dirette ma credo che la collaborazione tra il mio ministero e quello degli interni è assolutamente essenziale ci sono delle esperienze da valorizzare penso all'esperienza matura che va avanti da almeno dieci anni sul fronte dei protocolli di legalità a livello centrale a livello periferico e penso al successo di una formula come quello del comitato di alta sorveglianza per le grandi opere che è diretto dal prefetto Frattasi e che ha svolto un importantissimo lavoro di coordinamento ecco queste esperienze possono essere punti di partenza per ulteriori innovazioni normativa e possiamo completare il percorso che era in qualche modo sotto traccia al codice antimafia sulla documentazione antimafia dobbiamo credo procedere in fretta ma evitare in questo caso che questi controlli e in parte diciamo la discussione che mi ha preceduto a posto questo tema diventino un labirinto nel quale si nascondono proprio i più pericolosi in questo senso c'è in corso un lavoro e una cooperazione un confronto con il ministero degli interni che può portare a una importante evoluzione un importante ulteriore salto di qualità che metta le prefetture nella condizione di svolgere un ruolo importantissimo vorrei dirlo che hanno già incominciato però a svolgere oggi le prefetture sono tra i principali presidi di legalità del paese e questo è un riconoscimento quando dico che noi dobbiamo rivendicare anche i successi un riconoscimento che come paese dobbiamo farci infine aggiungo un punto che forse è anche condizionato dalla mia esperienza precedente auspico che il Parlamento approvi rapidissimamente la riforma dei reati ambientali ritengo da questo punto di vista che non si debba spiegare qual è il nesso ormai tra l'attività delle organizzazioni criminali e il business della gestione illecita dei rifiuti qui abbiamo un sistema sanzionatorio che è in larga parte ad ampio rischio di prescrizione perché prevalentemente è basato su contravvenzioni e abbiamo alcune figure che sono elaborate soltanto in via giurisprudenziale credo che si debba procedere rapidissimamente un test è uscito già dalla dalla camera e mi auguro che il Senato lo licenzi in modo rapido perché credo che questo sia un altro fronte sul quale la nostra attenzione al quale la nostra attenzione si deve rivolgere in modo in modo rapido ecco io ho cercato di tracciare sinteticamente il terreno sul quale possiamo far tesoro immediato della riflessione che c'è stata quest'oggi non escludo che molte altre delle questioni che sono state poste potranno essere oggetto in futuro del nostro lavoro ma credo anche forse perché sono un amante del basso profilo diciamo che in questo momento si tratti di procedere non con piattaforme organiche ma attraverso una pragmatica capacità che dovrebbe essere quella della politica di cogliere le occasioni che si offrono di convergenza di disponibilità di sensibilità dell'opinione pubblica per introdurre progressivamente gli strumenti che ci mancano per completare un edificio che è un edificio importante come quello che è stato costruito anche in questo caso consentitemi è stato un edificio che è stato realizzato anche con il sangue e a causa del sangue di chi è caduto sotto il piombo della mafia ecco approfittiamo del fatto che ci sono queste congiunture la politica credo debba poter far questo senza senza dover muovere soltanto quando c'è l'impulso emozionale che si viene a determinare all'indomani del fatto eclatante ci sono le condizioni per farlo c'è un governo che è intenzionato ad orientarsi in questo fatto c'è anche un quadro parlamentare ecco se si evitano le polemiche le competizioni finalizzate a distinguersi tra intransigenti e ragionevoli quando la categoria del ragionevole finisce quasi sempre poi per essere associata a quella del colluso in questo tipo di discussione ecco se siamo in grado di realizzare una spinta unitaria tra tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione io credo che ci sia la possibilità di fare questo salto di qualità se invece questo diventa un terreno sul quale si consumano campagne propagandistiche o conflitti preelettorali ecco noi perdiamo un'occasione che rischia di essere storica in questo caso non abuso dell'aggettivo perché da molto tempo non c'erano delle condizioni politiche così favorevole per poter fare questo passo avanti a patto che tutte le forze politiche siano in grado di produrre uno sforzo unitario guardate questa è sempre la condizione fondamentale la legislazione a partire dalla torre rognoni per arrivare alle cose più recenti questi passi significativi avanti si fanno soltanto quando si viene a determinare una condizione allora io so che spesso le cose che si dicono sono necessarie alle volte anche necessarie alzare i toni in politica ma in questo momento io l'appello che rivolgo lo rivolgo a tutte le forze politiche è quello appunto di cogliere questa opportunità e di raccogliere la riflessione vostra e le molte riflessioni che si sono sviluppate nel paese su questi temi e farne tesoro e farle diventare oggetto concreto dell'azione normativa ed amministrativa grazie ringraziamo il ministro grazie a tutti grazie a tutti